All'Elida Hair Institute di Parigi, ascoltiamo le tue esigenze. Ah, quanti nodi! Impossibile pettinarli! Sentito? Impossibile pettinarli! Ecco perché abbiamo creato Dimension Professional Intensivo, uno shampoo con due balsami. Il primo balsamo agisce su tutto il capello, il secondo sulle punte danneggiate. E l'abbiamo misurato, capelli il 50% più facili da pettinarli. E ora sono come sepa! Shampoo e balsamo Dimension Professional, la nuova bellezza si misura sui risultati. Grazie a tutti!